buongiorno amici buongiorno amiche eccoci qua con un nuovo prodotto questa volta non è un dongle android ma un display sempre chiaramente per automobile questo è il brand lo potete acquistare nel loro sito che vi metterò in descrizione a un prezzo veramente pazzarello perché siamo sui 99 dollari più la spedizione e se pensate insomma è un display grande da 10 pollici che si vede molto bene ha un ottimo audio dopo ve lo farò sentire e ora vi faccio vedere cosa c'è in confezione c'è un cavo audio jack maschio maschio c'è una retrocamera con un filo molto lungo e una retrocamera veramente ben ben costruita molto molto solida al tatto non non suona vuoto ma è molto solida ripeto poi c'è chiaramente le due vitine se lo volete fissare al cruscotto oppure sotto il questo display c'è un adesivo per chi lo volesse incollare non c'è un braccio per incollarlo al vetro ora vi faccio vedere come è fatto il display lo abbiamo visto da questo lato vedete c'è l'alimentazione usb c'è la micro sd che io ho inserito per registrare la dash cam e poi ci sono le prese per l'elettrocamera e come vi dicevo il jack audio dietro ci sono delle casse di buona qualità vi assicuro che non gracchiano non sono non sono chip questa è la dash cam regolabile questo è il pulsante per l'accensione e spegnimento schermo anche questo non datelo per scontato perché in certi display chip questo pulsante manca e per spegnere il display dovete staccare l'alimentazione qui invece abbiamo un comodo display poi vi faccio vedere l'altro lato dove non c'è non c'è nulla sotto c'è come vi dicevo un adesivo per chi appunto lo vuole attaccare al al cruscotto quindi non c'è l'opzione di di fissaggio al vetro o almeno non c'è in confezione ne potete comprare uno dei mille che ci sono in commercio lui in questo momento è alimentato con l'accendisigari un cavo molto lungo e molto di qualità il cavo accendisigari è anche uno snodo vedete quindi potete inserire anche una usb c dove potete appunto registrare quello che vedete nel video nella dash cam ecco vedete in questo momento la dash cam sta registrando e in full hd ma anche in 4k potete poi salvare il tutto nella micro sd purtroppo da quello che ho che ho visto io la micro sd non serve per riprodurre musica o video ma solamente per registrare appunto quello che proviene dalla dash cam le opzioni sono in italiano sono abbastanza basiche vedete le informazioni la risoluzione la dash cam in questo momento io ho abbassato un po la risoluzione ma potete mettere anche in 4k chiaramente e ecco insomma non non c'è molto molto alto il touch è buono in altri display più chip il touch era molto insoddisfacente qui invece mi sono mi sono trovato bene ora da qui possiamo spegnere lo schermo e riattivarlo con il tocco qui il volume e qua lo schermo che attualmente è al massimo vi faccio vedere android auto se cade la linea ci rivediamo dopo che cade la linea vediamo un po cosa cosa succede no la linea non è caduta è continuato il mio è continuato il mio video allora qui vedete c'è la dash cam ma la potete anche spostare qui oppure potete mettere android auto a schermo intero il problema è che con android auto a schermo intero questo menu questo widget qua si va a sovrapporre con le il menu di android auto io ho trovato delle difficoltà quindi vi consiglio di fare questa visione separata in modo tale che il menu di android auto non si va a sovrapporre con questo widget o sono stato sfortunato io ma comunque vi ripeto a schermo intero android auto mi andava in conflitto con questo widget widget che è utile però questo questo è vediamo se funziona l'assistente vocale previsioni meteo domani a schermo e shake si e l'assistente vocale funziona quindi android auto funziona perfetta perfettamente io sto riproducendo in questo momento della musica e come vi dicevo si sente molto bene come possiamo ecco vedete questo display si può ascoltare la musica di spotify o il navigatore o utilizzando le casse integrate e vi ripeto non sono male o attraverso il metodo fm cioè mettete 90.5 sulla vostra radio fm a questo punto la riproduzione del display verrà fatta sulle casse dell'auto sfruttando il modulo fm o attraverso il jack audio è un po scomodo ma sinceramente un'ottima soluzione e poi la soluzione che vi consiglio è quella con il bluetooth se avete un autoradio bluetooth vi potete collegare via bluetooth all'autoradio della vostra macchina e ascoltare spotify e tutto ciò che che ne concerne grazie ad android auto allora amici la conclusione è che per 99 euro assolutamente è da comprare perché è molto veloce certo non ha il play store non ha il gps integrato ma questo perché lui di fondo non ha un sistema android ma ha un linux e quindi è tutto molto scattante molto veloce quindi diciamo che se voi volete un display ampio che si vede bene che si sente bene che vi faccia da supporto per android auto wireless car play wireless o mirroring questo è quello che fa per voi anche per chi ha la dash cam se invece voi volete il play store volete riprodurre video e musica dalla vostra sd o da una penna usb questo non fa per voi perché questo non è non è possibile ma chiaramente se volete un play store un sistema scattante dobbiamo andare a spendere sui 2 300 euro invece lui costa solamente 99 dollari io direi che abbiamo detto tutto salutiamo fasqui che ci ha ospitato nel suo canale se avete le domande fatele pure nel box dei commenti e in descrizione vi metterò il link all'acquisto ciao a tutti